Ciao a tutti, sono Romina D'Agostino, un volto abbastanza noto e conosciuto nel mondo del poker come blogger e giornalista prima e come giocatrice, diciamo, che ci provo ora. Quest'anno ho partecipato la seconda edizione della Casa degli Assi, il format televisivo pokeristico in onda su Italia 1, sponsorizzato da PokerStars, con un cast d'eccezione per quanto riguarda i coach, parliamo di Luca Pagano, Pierpaolo Fabretti e Giada Fang, quindi tre nomi ovviamente di punta del panorama pokeristico italiano e non solo. È stata un'esperienza, diciamo, abbastanza forte, pesante sotto alcuni aspetti, pokeristicamente molto valida, umanamente con qualche, diciamo, problemino di convivenza, perché eravamo più di dieci persone a convivere appunto sotto lo stesso tetto, non ci conoscevamo, insomma, un po' di problemi di vita quotidiana, però diciamo che esperienza tutto sommato positiva. Mi sono classificata a quarta alla Casa degli Assi, un colpo molto sfortunato in semifinale, asso asso io, KK, il mio avversario, Kriver, rimango con pochi spicci, arrivo comunque in finale e alla fine esco quarta, comunque un'esperienza tutto sommato ancora positiva, anche perché considerato che la vincitrice meritava assolutamente la vittoria. Detto questo, l'esperienza si chiude, tanti ricordi, tante cose positive, e soprattutto tanta, tanta esperienza sui tavoli da gioco. Oggi invece sono qui al Casino della Vallée, a Saint-Ven-Saint, per questo mini-PT che per la prima volta mi vede in veste di giocatrice. Soddisfatta del Deionois giocato ieri, ho chiuso con 40 bui, e quindi tutto è da vedersi ovviamente al Day 2 domenica, qui sempre in questo favoloso scenario. Splendido scenario qui al Casino della Vallée, non solo appunto nella Poker Roma, ma anche fuori, nella Spa, in questa piscina riscaldata, immersa tra le montagne della Valle d'Aossa, che ha un'area pulita, fresca, insomma, che vale davvero la pena di visitare. Qui infatti non c'è soltanto gioco, non c'è solo poker, non ci sono i giochi da Casino, ma c'è divertimento a 360 gradi, anche fuori appunto in questo contesto, che devo dire io ho apprezzato molto, perché sono qui da circa quattro giorni, della piscina e della Spa, che è assolutamente top, diciamo, in Europa. Un saluto quindi da San Benzano Resort TV e io sono Romina, ci vediamo presto. Ciao!